tutto ciò che nasce è soggetto a una misurabilità qualitativa i greci avevano il concetto di kairos che era la qualità del tempo diverso invece da kronos che era la quantità la misurabilità della quantità e ovviamente tutto ciò che nasce vuol dire tutto ciò che nasce compreso una nazione è possibile fare l'analisi astrologica di una nazione se si conosce l'esatto giorno mese e anno adesso l'ora per carità non è il caso anche se appunto se c'è una costituzione viene firmata in un determinato momento per quello che riguarda l'italia bisogna fare dei ragionamenti molto importanti perché non è così semplice bisogna andare al dopoguerra e dobbiamo andare a capire passo passo allora questo è un episodio di dati è un episodio molto molto tecnico quindi se qualcuno si aspetta leggerezza previsionale sui caratteri astrologici in questo episodio non ci sarà per cui può tranquillamente non perdere altro tempo mentre invece se qualcuno è più interessato all'aspetto tecnico sicuramente può trovare delle risposte secondo me allora il 25 giugno del 1944 viene stabilito che al termine quindi con un decreto luogo tendenziale numero 151 viene stabilito che al termine della guerra sarebbe stata indetta una consultazione popolare per la scelta tra la monarchia e la repubblica il 31 gennaio del 45 passa la proposta per il voto alle donne poi c'è un decreto numero 23 del 2 febbraio del 45 viene pubblicato il riconoscimento del diritto di voto alle donne italiane quindi le donne iniziano a prendere potere il primo marzo del 46 il governo presieduto dal cide de gasperi perfeziona il disegno di legge con cui deve essere stabilito il quesito referendario da sottoporre agli elettori 12 marzo del 46 decreto luogo tendenziale numero 98 viene stabilito che il referendum avrà luogo nei giorni 2 e 3 giugno del 46 e che contemporaneamente verranno eletti i componenti dell'assemblea costituente il decreto viene firmato e diventa legge il 16 marzo del 46 poi siamo al 2 giugno del 46 prima giornata di voto si vota per l'intera giornata anche qua siamo un po lontani dal identificare una data di nascita perché è una giornata di voto il 3 giugno cioè il giorno dopo è la seconda giornata di vota e si vota fino alle ore 15 il 4 giugno del 46 operazioni di spoglio in quella giornata il papa pio dodicesimo viene informato della vittoria della monarchia sulla repubblica 5 giugno del 46 mattinata il capo del governo in carica al cide de gasperi porta a conoscenza del re umberto secondo la vittoria sulla monarchia 5 giugno del 46 verso sera il ministro degli interni giuseppe romita repubblicano su è la frase o è repubblica o è caos pronunciata quella sera durante la riunione del governo con una mossa strategica annuncia ufficiosamente che la repubblica aveva vinto sulla monarchia a questo tentativo di manipolazione seguirono in varie parti d'italia contestazioni ricorsi manifestazioni di annuncia per brogli eccetera eccetera qui bisognerebbe aprire una parentesi perché dal punto di vista astrologico non avrebbe mai vinto la repubblica quindi secondo me c'è stato qualcosa ma non entro nel merito non ho dati sufficienti per indagarla 10 giugno del 46 alle ore 18 a roma viene data lettura dei risultati del voto senza proclamazione della repubblica quindi non viene ancora proclamata la repubblica con rinvio il 18 giugno del 46 data molto papabile per creare un tema natale è necessario attendere il giudizio della corte di cassazione sulle contestazioni sui reclami inoltrati per il sospetto di brogli l'italia ha aspetti molto forti in scorpione quindi è un concetto mafioso inside 12 giugno 1946 a seguito dei disordini che si stanno manifestando a macchia d'olio per tutta la penisola il re invita al governo in carica diciamo una nota una lettera di nota appunto con la quale dichiara che avrebbe rispettato il volere degli elettori votanti così come era previsto nel decreto con cui era stato convocato il referendum aggiungendo che avrebbe atteso il giudizio definitivo della corte di cassazione sempre 12 giugno del 46 ma verso notte il governo si riunisce per discutere sia delle manifestazioni di piazza sia della lettera del re nel corso della notte tra il 12 e il 13 giugno al cide de gasperi assume le funzioni di capo dello stato 13 giugno del 46 il re protesta per l'iniziativa assunta da de gasperi e parla di colpo di mano la situazione sembra veramente degenerare siamo sempre al 13 giugno del 46 il comando anglo americano fa sapere al re che anche in presenza di un assalto al quirinale residenza del re da parte dei repubblicani così come nel caso di evidenti e palesi comportamenti posti in essere in dispregio delle leggi non ci sarebbe stato intervento a favore e a difesa del re da parte del comando alleato il tutto è giustificato dal timore di una guerra civile qui ancora la nazione non era costruita quindi non so risalire alle varie regioni quando sono nate ma c'erano ancora uomini con gli attributi quindi qui la guerra civile le facevano davvero 13 giugno 1946 tarda mattinata il re decide di non attendere il risponso della corte di cassazione previsto per il 18 giugno e di lasciare l'italia parte da ciampino verso il portogallo in quello stesso pomeriggio e arriviamo al 18 giugno 1946 alle ore 18 in campidoglio sala della lupa la corte di cassazione conferma la vittoria della repubblica il primo luglio del 46 viene scelto il primo capo dello stato provvisto di tutto di tutto quello che doveva essere provvisto dovrà curare l'avvio secondo legalità diciamo delle attività istituzionali della repubblica enrico de nicola e il primo capo dello stato nato a napoli il suo urano il suo e i suoi aspetti congiunti a marte di questa stessa repubblica fanno vibrare molti pianeti della nazione il 22 dicembre del 47 alle 18 e 30 circa viene approvata dalla costituente la carta di costituzione della repubblica italiana il 27 dicembre del 47 pubblicazione straordinaria sulla gazzetta ufficiale la costituzione promulgata dalle ore mezzanotte del 27 dicembre del 47 per ultimo primo gennaio del 48 la carta costituzionale della repubblica italiana inizia la sua vita in tale data ci sono diversi aspetti non sto a elencarli poi spiego anche perché dunque quindi potremmo veramente dire e appare evidente che la proclamazione della repubblica italiana debba intendersi effettuata nella data 18 giugno 1946 in quella data infatti il massimo organo di giustizia la suprema corte di cassazione sciogliendo le riserve causate da ricorsi prodotti dai vari comitati con le loro denunce di brogli sancì la vittoria della repubblica sulla monarchia a questo punto il tema natale della nazione italia dovrebbe essere quello del 18 giugno 1946 alle ore 18 a roma viene fuori un solo in ottava viene fuori un ascendente scorpione tantissime caratteristiche scorpioniche e viene fuori anche una luna in scorpione ora fare l'analisi di un tema natale cioè fare l'analisi del tema natale di una nazione sì va bene non capisco esattamente l'utilità per certi aspetti può dare delle colorazioni che ne so la francia nasce sotto il segno del leone quindi questo senso di snob questo senso di essere gli unici più bravi migliori va bene ci sta la spagna nasce sotto il segno del sagittario e quindi questo questo essere molto un po primi della classe per certi aspetti poi fa strano perché in spagna non c'è molto una una un inglesizzazione dei termini cioè gli spagnoli il computer per esempio lo chiamano calculatore invece l'italia no e nasce sotto il segno dei gemelli perché l'italia ha uno stellium potentissimo in nonna che la casa dell'estero cioè ci sono diversi fattori andrei ad analizzare magari la posizione del sole però non è che c'è una nazione che nasce come l'italia con un sole in gemelli vorrebbe dire che tutti i vergine tutti gli abitanti del segno della vergine hanno una quadratura naturale con quel sole quindi dovrebbero essere tutti in mezzo alla strada siamo un po po azzardata come ipotesi oppure dovrebbero scappare tutti all'estero ma non è così ci sono tantissimi vergini realizzati andrei più a cercare un po il carattere no non so un sole in gemelli e una luna in scorpione io ho sempre pensato confrontandomi molto e lavorando con diversi antropologi che l'appetito sessuale degli uomini di una nazione è in funzione della sensualità delle donne di quella stessa nazione e quindi ovviamente l'italiano medio che non è proprio famoso per essere glaciale e per essere sempre abbastanza il ciao bella è tipico dell'italiano all'estero dipende appunto da una luna scorpione che sicuramente sono donne che emanano sensualità rispetto a un sole adolescenziale come quello dei gemelli però non farei delle regole fisse non è che ti cambia la vita sapere esattamente la posizione dell'italia non puoi vedere se entra in guerra una nazione per questa cosa tutti hanno i transiti di marte e si rischia analizzando troppo perché è vero che l'astrologia può monitorare la qualità del tempo di tante cose ma ricordiamoci che non si può estrapolare estrapolare il concetto logos dall'astrologia perché astrologia è astron logos cioè dialogo con le stelle se manca la componente dialogo io mi perdo non so dove andrà a identificarsi quel determinato quel determinato aspetto non lo so hitler aveva saturno in decima ce l'ho anch'io ma non è che brucio persone o le gaso dipende sempre quanto e come vivi quel determinato aspetto centinaia di migliaia di persone hanno saturno in decima ma non sono dei dittatori centinaia di migliaia di persone hanno urano sull'ascendente ma non è che fanno gli esperimenti sui bambini come mengele cioè bisogna fare molta attenzione perché altrimenti si riesce a evitare di inglobare tutti attraverso il segno zodiacale per cui oggi gli astrologi iniziano a svegliarsi un attimino riescono a capire che non c'è soltanto un'astrologia morpurghiana di carattere del segno zodiacale ma che c'è una posizione di pianeti e quindi oggi gli astrologi si vantano e sono ben consci che non è possibile che a tutti gli arieti accada la stessa cosa però poi cadono nel tranello e tutti quelli che hanno saturno in quel punto lì hanno lo stesso significato degli altri non funziona non funziona così è tutto un viaggio all'insegna del dialogo col cliente col consultante nessuno ha la palla di cristallo quindi è molto importante non perdersi secondo me troppo attraverso interpretazioni astruse e restare sul focus di quello che accade benissimo io sono che ne so invento sono della vergine vivo in una nazione dove un sole quadrato molto probabilmente i miei obiettivi legati al sole vergine non sono assolutamente diciamo al cento per cento in linea con l'idea di quella nazione non lo so questo potrebbe essere tradotto come una vergine che vive in piemonte vuole aprire un ciringhito è chiaro che un ciringhito spagnolo non puoi è chiaro che quella nazione ti metterà nella condizione di creare dei contrasti magari ci riesci ma con una difficoltà immane sei in italia fai le cose che quella nazione ti dà non so per esempio mi immagino una persona che vuole entrare in politica che già questo per me è assurdo cioè veniamo accusati noi astrologi di credere di essere dei creduloni e da da gente che poi vota dei politici che pensano possa fare possono fare i loro interessi per me questa cosa è assurda però detto questo mettiamo appunto il caso la nazione che nasce con un sole in ottava ascendente scorpione e con una luna scorpione cioè plutonica per eccellenza e versore per natura evasore per natura che decide di entrare in politica e di cambiare il mondo io sono basito quando sento queste cose non puoi farlo ecco in questo caso la strategia ti può venire in aiuto non ti metti a salvare da una nevrosi un pazzo l'italia nasce con questa struttura e non la puoi cambiare puoi forse gestirla puoi forse entrare in contatto con le parti oscure metterti d'accordo pagando un pegno ma non puoi cambiarla questo sarebbe molto importante se nelle aule delle università di scienze politiche capissero un pochino meglio come sono strutturate le nazioni forse riuscirebbero anche un attimino a incalzare determinate cose non salgo su un puro sangue se non sono bravissimo ad andare a cavallo l'italia nasce con un aspetto ingestibile quindi sotto il profilo politico bisognerebbe fare un ragionamento completamente diverso entrare in un mondo politico con l'idea di voler cambiarla questa nazione è fantascienza è fantascienza è come credere che tutti i toro sono possessivi tutti gli arieti sono nervosi eccetera eccetera quindi a questo potrebbe essere utile se devo fare un qualcosa in una nazione allora può essere utile cercare di capire un attimino come strutturata quella nazione questo mi dà la possibilità di cogliere ogni potenziale ma analizzare il tema natale di una nazione solo per descriverne le caratteristiche non serve assolutamente a niente qualunque cosa ripeto qualunque cosa nasca è soggetto a una qualità del tempo ma quella cosa che nasce con quella qualità del tempo deve essere calcolata in sinastria col nostro tema natale altrimenti non ci serve assolutamente a nulla la sinastria come ho già spiegato sin insieme astri sinastria astri insieme vuol dire sovrapporre due temi natali il mio è quello del partner il mio è quello di un contratto il mio quello di un acquisto di un'automobile il mio è quello di mio figlio qualunque e cercare di capire quelle che sono le dinamiche in quel caso lì ha senso ma analizzarlo di per sé significa curiosare nel destino degli altri cioè guardare il tema natale solo di quel contratto di un acquisto di un'automobile per cercare di capire come andrà l'andamento di un'automobile è assolutamente assolutamente insignificante bene spero di essere stato utile chiaro soprattutto su questa cosa grazie per l'ascolto grazie grazie